Innanzitutto benvenuti alla quinta edizione del Pambianco Interni Design Summit. Più persone mi hanno detto che oramai è diventato un appuntamento imprescindibile per il settore e questo non può che farci piacere. Come sempre l'obiettivo di questo incontro e di tutti quelli che organizziamo, perché come sapete lo stesso summit viene organizzato nel settore della cosmetica e nel settore della moda, da cui nasce come format, l'obiettivo di questa giornata è sempre duplice, quindi quello di riuscire a darvi degli spunti interessanti che poi potrete applicare o utilizzare nella gestione delle vostre aziende in tutti i giorni e anche darvi l'occasione di fare, come si dice, network e quindi potervi scambiare idee e confrontarvi con colleghi o anche concorrenti nel corso di questa mattinata. Quest'anno con Gilda abbiamo voluto dare un accento più internazionale, per cui come avrete visto dal programma avremo dei relatori rappresentanti di aziende del settore dell'arredo, non italiane ma internazionali, come dicevo, di primo piano. Un'altra cosa interessante è che circa il 40% dei relatori sono donne, quindi anche noi cerchiamo di... mi dispiace che non si riesca ad arrivare al 50%, ma ci lavoreremo per i prossimi anni. Come al solito ci tengo a sottolineare che, come vedete di nuovo dal programma, cerchiamo in queste mattinate di far parlare un po' tutti gli attori del sistema industriale del design, quindi anche questa volta avrete testimonianze di imprenditori, amministratori e delegati di aziende, una tavola rotonda su architetti che operano in questo settore, poi una tradizione del nostro summit design, una tavola rotonda con le nuove generazioni, chiamiamole così, che poi in realtà sono generazioni già pienamente inserite nell'operatività delle aziende, un distributore che in questo caso è Silvera, quindi è francese, e anche un contributo legato al mondo dell'e-commerce, che anche nel design, seppur con un po' di fatica, sta pian piano entrando, per cui avremo anche una testimonianza da Amazon. A breve presenteremo anche la nostra relazione, che parlerà in sostanza di tutto quello che è la complessità distributiva di questo settore, che secondo me sta crescendo, un settore che credo abbia davanti delle opportunità importanti, mercati che si stanno aprendo, che possono diventare non più mercati del domani, ma mercati dell'oggi, ma anche un settore che proprio per questo motivo chiama le aziende a dei cambiamenti sempre più importanti e radicali, quindi anche cambiamenti di cultura gestionale, e credo che, e mi auguro che gli spunti che emergeranno durante questa mattinata, siano proprio proficui per le aziende da questo punto di vista. Chiudo, anzi, come buon auspicio dico, siamo in Borsa come sempre nei nostri summit, e parlavo prima con Raffaele Ierusalmi, che parlerà subito dopo di me, che è amministratore delegato di Borsa Italiana, salutando la quotazione all'AIM di Gibus, che adesso non so se è presente qualche rappresentante dell'azienda, che è un'azienda di tende, che ha scelto la strada della Borsa, e quindi credo anche che questo sia di buon auspicio nell'ambito, come dicevo prima, del cambiamento che le aziende devono necessariamente portare avanti. Quindi passo la parola a Raffaele Ierusalmi.